Io sono Bella Baxter. Sono una persona perfetta e mi piace sperimentare. Io devo partire vedere il mondo. E c'è così tanto da scoprire. Sei la donna più bella che abbia mai visto. Trovo che essere lì di sia affascinante. Bella? Perché tenerlo nella mia bocca sia rivoltante? Devo dare un pugno a quel bambino. Dobbiamo sperimentare ogni cosa. Non solo il bene. Ma anche il degrado. Vogliamo cantare! L'orrore. La tristezza. Così possiamo conoscere il mondo. E quando conosciamo il mondo... Allora il mondo è nostro. Sbagliamo di più! No, basta. Due sono troppi.